L'ampio piazzale del santuario di Nostra Signora di Fatima si è vestito di luce e la luce della fede e della speranza che guidano i passi del popolo di Dio. In questi luoghi, i testimoni delle apparizioni della Vergine, seguite nei cento anni successivi da una preghiera pressoché incessante, Papa Francesco ha benedetto le candele per poi introdurre la recita del Santo Rosario. I grani della corona, scivolando tra le dita delle donne e degli uomini che invocano la misericordia di Dio, consentono al Vangelo di riprendere la sua strada nella vita di ognuno, delle famiglie, dei popoli e del mondo, eleniscono le ferite dei diseredati e infelici ai quali è stato rubato il presente, degli esclusi e abbandonati ai quali viene negato il futuro, degli orfani e vittime di ingiustizia ai quali non è permesso avere un passato. Dinanzi a un mare di piccole fiammelle il Pontefice ha parlato di Maria, con lei che ha dato un volto umano al figlio dell'Eterno Padre, una maestra di vita spirituale, non una santina alla quale si ricorre per ricevere dei favori a basso costo. Ogni volta che guardiamo a Maria, ha precisato, torniamo a credere nella forza rivoluzionaria della tenerezza e dell'affetto, in lei vediamo che l'umiltà e la tenerezza non sono virtù dei deboli ma dei forti, che non hanno bisogno di maltrattare gli altri per sentirsi importanti. La Vergine ci conduce al suo figlio che non negò il peccato ma ha pagato per noi sulla croce. Grande ingiustizia infatti si commette contro Dio e la sua grazia quando si afferma in primo luogo che i peccati sono puniti dal suo giudizio, senza anteporre che sono perdonati dalla sua misericordia. Nella fede che ci unisce alla croce di Cristo, ha concluso il Pontefice, siamo liberi dai nostri peccati, mettiamo da parte ogni forma di paura e timore, perché non si addice a chi è amato. Grazie a tutti.